Fred Hatcher è morto, morto di sua mano. Dire che il fatto fosse del tutto inatteso nella combricola dei suoi amici sarebbe falso. Eppure mai una volta noi intimi prendemmo in considerazione l'idea, se non in modo incomprensibile e inconscio. Sebbene tale possibilità fosse sempre stata lontana dai nostri pensieri, una volta appresa la disgrazia ci parve d'averla già prevista, di aspettarla da tempo. A posteriori i nostri inavvertiti presentimenti trovarono facilmente un'origine nel suo straordinario stato di afflizione. Parlo deliberatamente di straordinario stato di afflizione, giovane, bello e con una posizione assicurata quale braccio destro di Eben Hell, il grande magnate delle ferrovie, non avrebbe dovuto aver motivi per lagnarsi dei favori della sorte. Eppure abbiamo visto la sua fronte armoniosa assolcarsi e corrugarsi, come gravata da preoccupazioni e divoranti dolori. Abbiamo visto i suoi folti, neri capelli, farsi radi e argente, come grano verde divorato dalla siccità sotto cieli d'ottone. Chi può dimenticare quando, nei momenti più allegri, egli traeva con sempre crescente avidità l'ultimo profondo sospiro? Chi può dimenticare, dico, la cupa estraneità e l'amor nero in cui cadeva così spesso? Certe volte, quando il riso gorgogliava e si librava nell'aria sempre più in alto, improvviso senza ragione i suoi occhi roteavano, privi di luce, le sopracciglia si aggrottavano, come se con le mani serrate ed il volto contratto per gli spasimi del dolore mentale, lottasse, sull'ordine di un abisso, contro qualche pericolo ignoto. Non ci parlò mai dei suoi problemi, e noi non fummo abbastanza indiscreti da far domande, ma anche questo fu giusto, dopo tutto. Infatti, seppure noi ci fossimo decisi a chiedere e lui a parlare, il nostro aiuto e il nostro sostegno morale non sarebbero serviti a nulla. Da quando morì Eben Hel, di cui era segretario particolare, e inoltre quasi figlio adottivo e socio in affari, egli smise di frequentarci. Non perché, come ora so, la nostra compagnia gli riuscisse spiacevole, ma perché la sua pena era così aumentata che non poteva corrispondere alla nostra allegria, né trovare sollievo insieme a noi. A quel tempo non potevamo proprio capire il suo stato, giacché quando il testamento di Eben Hel fu omologato, tutti seppero che Wade era l'unico erede dei molti milioni del suo padrone, il quale inoltre aveva espressamente stipulato che la favolosa eredità venisse consegnata al suo protetto, senza alcuna condizione o limitazione nell'uso. Né un titolo né un dollaro fu legato per testamento ai parenti del morto. Per quanto riguarda i familiari diretti, una sballorditiva clausola specificava che Wade Hetzler avrebbe dovuto dispensare alla moglie, ai figli e alle figlie di Eben Hel, la quantità di denaro che avesse ritenuta necessaria e per il tempo che gli fosse sembrato opportuno. Se fosse verificato qualche scandalo nella famiglia del morto, o i figli si fossero dimostrati violenti o ingrati, avrebbe potuto esserci qualche barlume di giustificazione per un comportamento così inusitato. Ma la felicità domestica di Eben Hel era stata proverbiale nella comunità, eppur viaggiando fino in capo al mondo non si sarebbe scovata una progenie più innocente, equilibrata e sana. Mentre la moglie, basta, dirò solo che, chi la conosceva meglio, la chiamava la madre dei Gracchi. Inutile dire che l'inspiegabile testamento scatenò un putiferio. Chi si aspettava qualcosa rimase deluso, ma nessuna contestazione venne mai avanzata. Solo l'altro giorno Eben Hel è stato deposto nel suo imponente mausoleo marmoreo, ed ora Wade Hetzler è morto. La notizia è sui giornali del mattino. Ho appena ricevuto per posta una sua lettera, inviata evidentemente solo poche ore prima che si precipitasse nell'eternità. Questo plico che ho qui davanti a me contiene uno scritto di suo pugno, insieme a numerosi ritagli di giornali e a copie di altre lettere. Gli originali, a quanto mi si dice, si trovano nelle mani della polizia. Mi prega anche di rendere pubblica la terribile serie di tragedie in cui è stato innocentemente coinvolto, come avvertimento alla società contro il terribile e diabolico pericolo che ne minaccia l'esistenza. Accludo qui di seguito il testo completo. Il caso ci capitò nell'agosto 1899, subito dopo il mio ritorno dalle vacanze estive. Allora non fummo in grado di valutarlo. Non avevamo ancora imparato ad addestrare le nostre menti a possibilità così terribili. Mr. Hell aprì la lettera e dopo averla letta la gettò nella mia scrivania con una risata. Quando a mia volta la esaminai, anch'io scoppiai a ridere dicendo «Uno scazzo spaventoso, Mr. Hell, è di ben misero gusto!» Troverai qui, mio caro John, l'esatta copia della lettera in questione. Ufficio degli esecutori di Mida, 17 agosto 1899 Signor Eben Hell, re del denaro «Egreso Signore, la preghiamo di realizzare la parte del suo patrimonio necessaria a procurare 20 milioni di dollari in contanti. Pagherà poi tale somma a noi direttamente o ai nostri agenti. Come vede, non specifichiamo alcuna scadenza. Infatti non abbiamo intenzione di pressarla nell'esecuzione dell'affare. Potrà anche pagarci in 10, 15 o 20 rate, se questo può aggivolarla. Ma non accetteremo singoli versamenti inferiori al milione. Creda, caro signor Hell, che abbiamo intrapreso questa serie di atti senza alcuna animosità. Noi siamo membri di quel proletariato intellettuale la cui continua espansione ha caratterizzato l'ultimo scorcio del XIX secolo. Da un profondo studio dell'economia abbiamo tratto la decisione di metterci in questo genere di affari. Questo presenta molti vantaggi e soprattutto quello di permetterci di effettuare vaste e lucrose operazioni senza capitale. Finora abbiamo avuto un discreto successo e ci auguriamo che i nostri rapporti possano essere altrettanto soddisfacenti. Ci segua con attenzione, per favore, finché non avremo spiegato in modo più completo il nostro punto di vista. Dobbiamo riconoscere che alla base dell'attuale sistema sociale c'è il diritto di proprietà e, come dimostrano le più recenti analisi, questo diritto individuale al possesso riposa esclusivamente sulla forza. I gentiluomini inviati da Guglielmo il conquistatore divisero l'Inghilterra e se la spartirono tra loro con la spada sguainata. E questo è vero, come anche lei vorrà certamente convenire, per tutti i possedimenti feudali. Con l'invenzione del vapore e la rivoluzione industriale nacque la classe capitalista, nel senso moderno della parola, che soppiantò rapidamente l'antica nobiltà. I capitani d'industria hanno effettivamente spossessato i capitani militari. La forza dell'intelligenza e non quella dei muscoli vince oggi la lotta per l'esistenza. Ma il nuovo stato di cose non è per questo meno basato sulla violenza. Il cambiamento è stato qualitativo. Le antiche baronie feudali saccheggiavano il mondo col ferro e col fuoco. Le moderne baronie finanziarie lo sfruttano servendosi della loro profonda conoscenza delle forze economiche mondiali. La mente ha la meglio sul braccio e i più adatti a sopravvivere sono i più dotati di intelligenza commerciale e di capitali. Noi, esecutori di Mida, non ci accontentiamo di diventare schiavi salariati. I grandi trust e le società commerciali, grazie alle quali lei occupa la sua posizione sociale, ci impediscono di raggiungere la posizione che i nostri intellettici qualificherebbero ad occupare. Perché? Perché siamo senza capitali. Siamo anche noi plebaglia, ma con una differenza, che abbiamo cervelli dei migliori e siamo privi di stupide morali e di scrupoli sociali. Come schiavi salariati, faticando dalla mattina alla sera e vivendo sobriamente, non potremmo risparmiare in 60 anni, e neppure in 20 volte 60 anni, una somma di denaro sufficiente a competere con successo con le grandi aggregazioni di capitali che già esistono. Ciò non di meno siamo scesi in lizza. Noi ora sfidiamo il capitale mondiale. E che gli piaccia o no, dovrà accettare la sfida. Signor Hale, i nostri interessi ci impongono di esistere da lei 20 milioni di dollari. Pur essendo noi abbastanza comprensivi da concederle un tempo ragionevole per effettuare le transazioni necessarie, la preghiamo tuttavia di non indugiare troppo. Quando avrà accettato le nostre condizioni, pubblichi un opportuno avviso sul Morning Blazer nella rubrica delle persone scomparse. Le comunicheremo allora le istruzioni per il trasferimento della somma. Sarà meglio che lei provveda qualche tempo prima del primo ottobre. Altrimenti, per dimostrarle che non stiamo scherzando, quel giorno uccideremo un uomo nella trentanovesima strada est. Sarà un lavoratore. Quest'uomo lei non lo conosce, e nemmeno noi. Lei rappresenta una forza nella società moderna. Anche noi rappresentiamo una forza, una forza nuova. Ci siamo apprestati alla battaglia senza collera né livore. Come lei prontamente riconoscerà, noi non siamo altro che un affare commerciale. Lei è l'incudine, noi siamo il martello. Quella vita umana potrebbe rimanervi frantumata in mezzo. Lei può salvarla, si accetta le nostre condizioni e agisce in tempo. C'era una volta un re, la cui maledizione consisteva nel trasformare in oro tutto ciò che toccava. Abbiamo scelto il suo nome come marca ufficiale. E un giorno, per difenderci dalla concorrenza, lo registreremo. Ci preghiamo di essere i suoi devotissimi esecutori di Mida. Dimmi tu, caro John, perché non avremmo dovuto ridere di una comunicazione così assurda? L'idea, bisogna ammetterlo, era ben congegnata, ma troppo grottesca per essere presa seriamente. Il signor Hale disse che voleva conservare la lettera come curiosità letteraria, e la ripose in una casella. Ne dimenticammo subito l'esistenza. E con la stessa prontezza ci tornò in mente il primo di ottobre, quando, esaminando la corrispondenza del mattino, leggemmo quanto segue. Ufficio degli esecutori di Mida, primo ottobre 1899. Signor Erben Hale, re del denaro. Egregio signore. La sua vittima ha incontrato il suo destino. Un'ora fa, nella trentanovesima strada est, un operaio ha avuto il cuore trapassato da una coltellata. Prima che lei abbia letto queste righe, il suo corpo giacerà all'obitorio. Vada a vedere quel che ha fatto con le sue mani. Il 14 ottobre, come prova della nostra serietà in questa faccenda, e nel caso che lei non si sia intenerito, uccideremo un poliziotto all'angolo tra Polk Street e Clermont Avenue, o poco lontano. Molto cordialmente, gli esecutori di Mida. Il signor Hale ci fece su un'altra risata. Era tutto preso da un probabile accordo col sindacato di Chicago per la vendita delle sue ferrovie in quella città. E perciò andò avanti a dettare allo stenografo senza pensarci su. Ma in qualche modo, non so come, una goccia profonda si abbatté su di me. E se non fosse uno scherzo, disse a me stesso, e sfogliai involontariamente il giornale del mattino. C'era, come capita di solito per la gente sconosciuta delle classi inferiori, una misera mezza dozzina di righe, gettatela in un cantuccio dopo l'inserzione di una specialità farmaceutica. Questa mattina, dopo le 5, nella 39esima strada, un manovale di nome Pet d'Ascal, mentre si recava al lavoro, è stato accoltellato al cuore da uno sconosciuto assalitore che è fuggito di corsa. La polizia non è stata in grado di scoprire alcun movente del delitto. Impossibile, fu la replica del signor Hell quando lessi l'articolo ad alta voce. Ma l'incidente, a quanto pare, lo preoccupò, perché più tardi, nel pomeriggio, maledicendo in tutti i modi la propria stupidità, mi pregò di informare la polizia della faccenda. Nell'ufficio privato dell'ispettore ebbe il piacere di essere deriso. Tuttavia me ne andai, con l'assicurazione che si sarebbe indagato e che i dintorni di Polk e Clermont sarebbero stati doppiamente sorvegliati nella notte in questione. L'argomento non venne più sollevato fino a quando, volete via le due settimane, non ci arrivò per posta il messaggio successivo. Ufficio degli esecutori di Mida, 15 ottobre 1899 Signor Eben Hell, re del denaro. E' creso signore. La sua seconda vittima è caduta in orario. Noi non abbiamo fretta, ma per essere più convincenti d'ora innanzi uccideremo settimanalmente. Per evitare interferenze della polizia, la informeremo degli eventi solo durante l'esecuzione o poco prima, confidando che questa lettera la trovi in buona salute. Noi siamo gli esecutori di Mida. Questa volta fu il signor Hell a prendere il giornale e dopo una rapida scorsa mi lesse questo articolo. Un ignobile crimine. Joseph Bonau, assegnato solo l'altra notte ad uno speciale servizio di vigilanza nell'undicesimo distretto, è stato raggiunto a mezzanotte da un proiettile al capo che lo ha istantaneamente ucciso. La tragedia è avvenuta in un punto molto illuminato, all'incrocio fra Polk Street e Clermont Avenue. La nostra società è davvero instabile. Se i tutori dell'ordine vengono fatti fuori in modo così barbaro e sfacciato, la polizia non è stata in grado finora di reperire il minimo indizio. Aveva appena finito che arrivò la polizia, l'ispettore in persona e i due dei suoi più acuti investigatori. L'agitazione traspariva dai loro volti ed era chiaro che erano seriamente preoccupati. Sebbene i fatti fossero così scarni e semplici, ne discutemmo a lungo, riprendendo infinite volte l'argomento. Quando l'ispettore se ne andò, si assicurò confidenzialmente che ogni cosa si sarebbe presto aggiustata e gli assassini escovati. Nel frattempo egli pensò bene di assegnare alcuni agenti alla protezione del signor Hell e mia, oltre che a quelli incaricati di vigilare costantemente sulla casa e sulla tenuta. A distanza di una settimana, a luna del pomeriggio, ricevemmo questo telegramma. Ufficio degli esecutori di Mida, 21 ottobre 1899. Signor Eben Hell, re del denaro. Egregio, signore. Siamo spiacenti di constatare come lei ci abbia completamente frainteso. Ha ritenuto opportuno circondare se stesso e la casa di guardie armate, come se davvero noi fossimo criminali comuni, propensi ad agire direttamente contro di lei per strapparle con la forza ai suoi 20 milioni. Si creda. Nulla è più lontano dalle nostre intenzioni. Lei dovrebbe facilmente capire, dopo una breve calma riflessione, che la sua vita ci è molto cara. Non abbia paura. Per nulla al mondo le faremo del male. È nostro interesse prenderci ogni cura di lei e difenderla da qualunque danno. La sua morte non ci interessa per niente. Se così non fosse, stia pur certo che non avremmo esitato un momento a distruggerla. Ci pensi sopra, signor Hell. Quando ci avrà pagato il nostro prezzo, le conferrà fare un po' di economia. Concedi dunque le guardie e cominci subito a risparmiare. Entro dieci minuti da chi avrà ricevuto questo messaggio, una bambinaia sarà strangolata a morte nel parco di Brentwood. Il corpo si dovrebbe trovare nella macchia, lungo il sentiero che dal palco dell'orchestra va verso sinistra. cordialmente suoi, gli esecutori di Mida. Un attimo dopo il signor Hell era al telefono per informare l'ispettore dell'omicidio incombente. L'ispettore riattaccò immediatamente per avvertire la sottostazione di polizia e individuare gli uomini sul posto. Un quarto d'ora dopo richiamò per dirci che il corpo era stato trovato, ancora caldo, nel luogo indicato. Quella sera i giornali si profusero nell'esecrazione di Jack lo strangolatore denunciando la brutalità del delitto e lamentando l'inefficienza della polizia. Avemmo anche un colloquio privato con l'ispettore che ci invitò a mantenere ad ogni costo il segreto su tutta la faccenda. Egli disse che il successo dipendeva dal nostro silenzio. Come tu sai, il signor Hell era un uomo tutto di un pezzo e rifiutò di arrendersi. Ma caro John fu terribile, anzi orribile. Questo qualcosa di spaventoso, questa forza cieca nel buio. Non potevamo combattere né concepire piani, non potevamo far nulla, salvo torcerci le mani ed aspettare. E una mattina dopo l'altra, immancabilmente, come il sorgere del sole, giungeva l'annuncio e la morte di qualcuno, uomo o donna, innocente o malvagio, comunque vittima nostra, come se l'avessimo ammazzato con le nostre mani. Una parola del signor Hell che la strage sarebbe cessata. Ma egli inaridì il suo cuore e attese col volto scavato le labbra amare e lo sguardo sempre più fisso e cupo, infecchiando di ora in ora. È inutile che ti parli di quel che ho sofferto in quel periodo spaventoso. Troverai qui le lettere e i telegrammi degli esecutori di Mida con le cronache dei delitti e tutto il resto. Troverai addirittura alcune lettere che avvertivano il signor Hell di certi intrighi di suoi concorrenti e di segrete manovre di borsa. Gli esecutori di Mida mostravano di avere accesso all'intimo pulsare degli affari e del mondo finanziario. Si appropriavano e ci trasmettevano informazioni che neppure i nostri agenti riuscivano ad ottenere. Una loro tempestiva comunicazione in un momento critico di una certa contrattazione fece risparmiare al signor Hell non meno di 5 milioni. Un'altra volta inviarono un telegramma che probabilmente fu il mezzo per evitare che uno sculibrato anarchico attentasse alla vita del mio padrone. Catturammo l'uomo al suo arrivo e lo consegnammo alla polizia che gli trovò addosso un nuovo e potente esplosivo quanto bastava per affondare una nave da guerra. Eppure perseverammo e il signor Hell fu assolutamente irremovibile fino alla fine. Sborsava 100.000 dollari la settimana per indagini segrete. Chiamammo in aiuto Pinkerton e innumerevoli agenzie investigative private oltre ad aver sguinzagliato migliaia di nostri dipendenti. Gli agenti brulicavano dappertutto con ogni travestimento introducendosi in tutte le classi sociali. Si pagliarono miriadi di indizi centinaia di sospetti furono imprisionati e a diverse riprese migliaia di persone furono poste sotto sorveglianza. Ma non venne alla luce nulla di concreto. Gli esecutori di Mida cambiavano continuamente il loro modo di trasmettere i messaggi. Ogni messaggero che ci mandavano veniva subito arrestato ma immancabilmente poteva approvare la sua innocenza mentre le descrizioni che essi fornivano delle persone che li avevano impiegati non combaciavano mai. Uno degli ultimi giorni di dicembre ricevemmo questa notifica. Ufficio degli esecutori di Mida 31 dicembre 1899 Signor Ebden Hel re del denaro E greso signore conformemente alla nostra linea di condotta della quale ci illudiamo che lei si sia ormai ben impratichito ci pregiamo comunicarvi che rilasceremo un passaporto da questa valle di lacrime all'ispettore Bining di cui a causa delle nostre attenzioni lei ha fatto una così profonda conoscenza. Egli ha l'abitudine di trattenersi a quest'ora nel suo ufficio privato mentre lei legge queste righe l'ispettore sta esalando i suoi ultimi respiri cordialmente suoi gli esecutori di Mida. Lasciai cadere la lettera e mi precipitai al telefono. Grande fu il mio sollievo quando udì la viva voce dell'ispettore ma proprio mentre parlava la sua voce si spense nel ricevitore in un gorgogliante singhiozzo che potei udire distintamente il tonfo di un corpo che cade. Poi una strana voce mi salutò mi presentò gli omaggi degli esecutori di Mida ed interruppe la comunicazione. Come un lampo chiamai l'ufficio pubblico della polizia centrale dicendo loro di correre immediatamente in aiuto dell'ispettore. Restai in linea e pochi minuti dopo mi informarono che egli era stato trovato riverso nel proprio sangue mentre esalava gli ultimi respiri. Non c'erano testimoni oculari né alcuna traccia evidente dell'assassino. In seguito a questo fatto il signor potenziò i servizi segreti fino a far uscire settimanalmente dalle sue casse un quarto di milione. Era deciso a vincere. Le varie taglie ammontavano a dieci milioni. Tu hai una giusta idea delle sue risorse e come vedi li attinse a piene mani. Egli diceva di lottare per il principio non per il denaro e bisogna ammettere che il suo comportamento provò la nobiltà dei suoi intenti. I dipartimenti di polizia di tutte le grandi città cooperavano intervenne persino il governo degli Stati Uniti e l'affare diventò uno dei più grossi problemi di Stato. Certi fondi straordinari del paese furono devoluti allo smascheramento degli esecutori di Mida. Ogni agente del governo stava allerta ma tutto fu vano. Gli esecutori di Mida proseguirono indisturbati nel loro dannato lavoro. Avevano un piano e colpivano infallibilmente. Anche se lottò fino alla fine il signor Hell non poteva lavarsi le mani del sangue di cui essi si erano macchiati. Pur non essendo tecnicamente un assassino anche se nessun tribunale di suoi pari l'avrebbe mai condannato la morte di ogni vittima era imputabile a lui. Come ho già detto una sua parola sarebbe bastata far cessare la strage ma egli rifiutò di dire quella parola. Insisteva che l'integrità della società era minacciata che non era abbastanza vile da abbandonare il suo posto e che era palesemente giusto che pochi fossero sacrificati per il benessere finale dei molti. Ciò nonostante questo sangue pesava su di lui ed egli sprofondò in una depressione sempre più grave. Io fu sopraffatto allo stesso modo dalla colpa della complicità. Neonati bambini vecchi furono spietatamente uccisi. I delitti non avvenivano solo dalle nostre parti ma erano distribuiti in tutto il paese. A metà febbraio una sera mentre sedevamo in libreria ci fu un colpo secco alla porta. Andando a vedere trovai sul tappeto del corridoio questa lettera. Ufficio degli esecutori di Mida 15 febbraio 1900 Signor Hebden Hell re del denaro Egregio signore non protesta la sua anima per questo mese di sangue che si va ammietendo forse siamo stati troppo astratti nel condurre i nostri affari. Vediamo un po' di essere più concreti. La signorina Adelaide Liglow è una giovane donna piena di talento e a quel che si dice tanto buona quanto bella. È la figlia del suo vecchio amico giudice Liglow e sappiamo che lei la teneva in braccio quando era bambina. È l'amica più intima di sua figlia ed in questo momento le sta facendo visita. Come avrà letto questa lettera la visita sarà terminata. Molto cordialmente gli esecutori di Mida Dio mio non fummo neppure in grado di comprendere immediatamente la terribile portata dell'annuncio. Ci precipitammo nella stanza di soggiorno ma lei non c'era qui nel suo appartamento. La porta era chiusa a chiave ma la battemmo a spallate. Giaceva là soffocata coi cuscini del sofà proprio mentre stava finendo di vestirsi per l'opera. Il rigoglio della vita persisteva nella sua carne il corpo era ancora flessuoso e caldo. Permettimi John di tralasciare il resto di questo orrore ricorderai sicuramente i resoconti dei giornali. Più tardi quella notte il signor Kell mi mandò a chiamare e davanti a Dio mi impegnò solennemente a sostenerlo senza interferire e a non accettare compromessi anche se tutti i suoi amici e parenti fossero stati eliminati. Il giorno dopo fui sorpreso del suo buon umore pensai che fosse rimasto profondamente sconvolto dopo quest'ultima tragedia. Quanto più profondamente dovevo capirlo ben presto. Era sempre allegro e vivace come se finalmente avesse trovato un modo per superare questa terribile difficoltà. La mattina dopo lo trovammo morto nel suo letto con un quieto sorriso disegnato sul volto pieno di affanni. Con la connivenza della polizia e delle autorità la morte fu ufficialmente imputata ad una malattia di cuore. Ritenemmo opportuno nascondere la verità ma a ben poco covalse questo espediente. Avevo appena abbandonato quella camera fatale quando giunse ma troppo tardi la seguente straordinaria lettera. Ufficio degli esecutori di Mida 17 febbraio 1900 signor signor re del denaro e greggio signore speriamo perdonerà la nostra intrusione così a ridosso della disgrazia dell'altro ieri ma ciò che abbiamo da dire può essere della massima importanza per lei ci siamo fatti l'idea che lei stia tentando di sfuggirci apparentemente c'è un modo come lei ha già senza dubbio scoperto ma vogliamo informarla che anche questa via è sbarrata lei può morire ma muore fallendo e riconoscendo il suo scacco tenga presente questo noi siamo parte integrante delle sue ricchezze insieme ai suoi milioni noi passeremo ai suoi eredi e così per sempre noi siamo l'inevitabile il culmine dell'ingiustizia sociale e degli orrori dell'industria noi ci rivoltiamo contro la società che ci ha creato siamo il risultato dei fallimenti di questa epoca le scorie di questa civiltà degenerata noi siamo il prodotto di una selezione sociale perversa opponiamo la violenza alla violenza solo il forte resisterà noi crediamo nella sopravvivenza dei più forti lei è sopravvissuto cacciando nell'immondizia i suoi schiavi salariati i poliziotti ai suoi ordini hanno ammazzato i lavoratori in una serie di scioperi sanguinosi questi sono i sistemi con cui avete tirato avanti noi non ci lamentiamo dei risultati perché abbiamo riconosciuta e fatta nostra la stessa legge naturale ed ora finalmente si è posta la questione nelle presenti condizioni sociali chi di noi sopravviverà noi pensiamo di essere i più idonei e voi altrettanto lasciamo la risposta al tempo e alla legge cordialmente i suoi esecutori dimida don ti meraviglia adesso che io sfuggissi i divertimenti ed evitassi gli amici ma perché spiegare sicuramente questo resoconto metterà tutto in chiaro tre settimane fa Adelaide Beidlov morì da allora ho atteso nella speranza e nel terrore ieri il testamento è stato omologato e reso pubblico oggi ho ricevuto l'avviso che una donna della classe media sarebbe stata uccisa nel parco Golden Gate nella lontana San Francisco i dispacci sui giornali della sera forniscono i dettagli del brutale episodio e si corrispondono a quelli forniti in precedenza è inutile io non posso lottare contro l'inevitabile sono stato fedele al signor Hell che ho lavorato duramente non riesco a capire perché la mia fedeltà sia stata ricompensata in questo modo malgrado tutto non posso tradire i miei principi né spezzare il mio mondo quel compromesso tuttavia ho deciso che nessun'altra morte penderà sulla mia testa ho lasciato i molti milioni appena ricevuti ai legittimi eredi che i coraggiosi figli di Eben Hell trovino la via della loro salvezza prima che tu abbia finito di leggere io me ne sarò andato gli esecutori di Mila sono onnipotenti la polizia è impotente ho saputo da loro che altri milionari sono stati allo stesso modo ricattati e perseguitati quanti non si sa perché quando ci si arrende agli esecutori di Mila si devono anche sigillare le proprie labbra coloro che non hanno ceduto continuano a raccogliere le loro messi scarlatte questo gioco feroce sta per giuntere al suo epilogo che il governo il governo federale non può far nulla mi dicono che analoghe organizzazioni hanno fatto la loro comparsa in Europa la società è scossa dalle fondamenta sovranità ai poteri come tizioni sono sul punto ad essere inceneriti non sono le masse contro le classi ma una classe contro le classi noi i tutori del progresso umano stiamo per essere isolati e abbattuti la legge e l'ordine hanno fallito le autorità mi avevano pregato di mantenere il segreto l'ho fatto finora ma non posso più continuare è diventata una questione che riguarda tutti colma delle più spaventose conseguenze ed io devo fare il mio dovere prima di andarmene da questo mondo informandolo del pericolo che lo minaccia tu John come mia ultima volontà renderai di dominio pubblico tutta questa faccenda non aver timore ai tra le mani in destino dell'umanità che i giornali stampino milioni di copie che queste rivelazioni corrano sui fili per tutto il mondo ovunque gli uomini si incontrino a parlare che parlino di ciò terrorizzati e frementi e infine quando sarà completamente ridestata che la società sorga in tutto il suo potere e scacci questa infamia addio per sempre il tuo Wade appellare Grazie.